Ho manifestato il mio disappunto, mi sono anche arrabbiato perché non è il metodo di lavorare. Così il sindaco di Fano Massimo Seri ha commentato le reazioni della politica dopo che la giunta Cerisciogli ha approvato il 22 febbraio scorso una delibera sul nuovo ospedale, resa nota poi soltanto la scorsa settimana dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il provvedimento, che indicherebbe Fosso Segiore come scelta definitiva per il sito della nuova struttura, è stato tenuto nascosto per una decina di giorni. Scatenando polemiche da tutti i fronti e la richiesta di dimissioni di Seri e del presidente Ceriscioli. Il primo cittadino ne è venuto a conoscenza proprio mentre era a Bruxelles in cerca di finanziamenti, una notizia che lo ha lasciato spiazzato. Il fatto che non abbiano avvertito preventivamente, non abbiano informato le due città principali, Pesaro e Fano, non è un metodo che mi è piaciuto. Perché poi quando si fanno queste cose, a maggior ragione se sono superficiali, andavano annunciate preventivamente, perché poi sappiamo che c'è un dibattito che si scatena, rischiamo di creare sempre ulteriore confusione. Quindi questa va condannata, va criticata come metodo lavorativo. Trattandosi una questione regionale, anche i nostri consigli regionali devono essere coinvolti fino in fondo e loro stessi non devono accettare che ci siano certi comportamenti. Le critiche strumentali, ha ribadito Seri, non fanno bene la città e le nostre posizioni sono sempre state chiare, ha detto riferendosi al nuovo nosocomio che ha sempre visto chiaruccia al centro dell'attenzione della politica fanese. Ora vuole un dialogo e un confronto con la gente, per questo hanno organizzato una serie di incontri insieme alla cittadinanza. A breve verranno comunicate le date. Sto dimostrando che grazie a questo sindaco le questioni si stanno affrontando con pari dignità. In passato queste cose non si sarebbero verificate e a chi parla della debolezza rispondo che, anzi, per fortuna ci sono io perché ci fosse stato qualche altro sindaco, ho cominciato da quelli che chiedono le dimissioni, oggi certe queste non si sarebbero neanche affrontate. Chi fa parte di una compagine che governa usa altri strumenti per arrivare agli obiettivi. Poi, se non ci si riesce, ci sono altri strumenti, insieme sempre ai cittadini. Questa sarà la mia posizione, determinata come sempre.